ciao a tutti siamo di nuovo qui ormai siamo a giochi inoltrato la situazione è diventata particolarmente tesa a fine dell'ultimo video c'erano Ashley e Chris seduti a un tavolo con due lame che si stavano calando sopra sopra le loro teste e niente rispetto alla partita precedente sono già riuscito a salvare Matt non ne sono sicuro ancora al 100% ma penso di aver fatto la cosa giusta mentre per quanto riguarda Chris e Ashley dovrei essere sicuro anche perché avevo già agito nel modo giusto nella prima partita la scelta è tutta tua questa parte era secondo me è una delle più belle del gioco capitolo 7 quindi siamo mancano veramente pochissimi capitoli questa volta sono riuscito a scappare da dal killer e Sam non viene fatta prigioniere ma si è salvata vediamo adesso che sviluppi prenderà la storia ah 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 questa quest'area mi pare di non averla quest'area mi pare di non averla mai esplorata quest'area mi pare di non averla mai esplorata non può essere con mio dio No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no fantastico questo top mi stava benissimo la ragazza più odiosa mai vista in un video gioco a Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Molto strano. Grazie a tutti. 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 Ok, sto sbagliando tutto. Da qua ci sono arrivato. Grazie a tutti. 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 Morte sul colpo. che è un anno fa. a tutti. E' un'altra arca droga! Oh Dio, oh Dio, no, oh Dio, no, oh Dio, no, no. Oh, Bats. Ok, prima di proseguire di là torno leggermente indietro, vado a verificare di non aver dimenticatone qualcosa da questa parte. Ok. Ok, questo era l'indizio che mi mancava per completare anche tutti gli indizi delle due sorelle. Mi pare che Emily abbia capito che sono proprio cadute in questo buco. Quindi mi mancano solo due totem. Questi sono completati, mi manca solamente un indizio del 1952 e ho completato anche quelli di ridere due sorelle. Dio. 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 Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì.